ciao e benvenuto nella rubrica pda le pillole di amazon oggi parleremo di recensioni e in particolare dobbiamo dire che amazon ha dichiarato guerra quella che sono le recensioni false infatti in uk in sette giorni sono state cancellate più di 20.000 recensioni ecco la pratica che vuole colpire amazon è quella dei venditori scorretti soprattutto asiatici che durante le fasi di lancio del prodotto acquistano centinaia di recensioni regalando altre tanti prodotti ma non solo in fase di lancio quando immesso per la prima volta un prodotto ma anche successivamente per mantenerlo in alto ecco amazon sta eliminando tutte queste recensioni fausulle provenienti anche da gruppi facebook ma tuttavia la risposta ad amazon non si è fatta attendere infatti se le scorrette hanno trovato una soluzione differente anche meno dispendiosa ossia se non hanno la possibilità di acquistare delle recensioni positive mettono delle recensioni negative ai competitor quindi se non puoi salire tu nelle posizioni all'interno del ranking amazon affossi gli altri è molto importante infatti stare attenti a questo tipo di pratica infatti le recensioni negative possono anche portare alla disattivazione dell'asin e nei casi più gravi ripetuti anche la disattivazione del tuo account seller central se subisci un attacco di questo tipo da parte di un competitor scorretto avverti immediatamente amazon ciao alla prossima pillola se ti è piaciuto questo video clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici ricordati di seguirmi per rimanere sempre aggiornato ciao ci vediamo al prossimo video